Bandiera Italia, coesi al ballottaggio, bagno di folla, suggella il patto per la città. Una numerosissima folla di cittadini nel pomeriggio in via Piti ha sancito la prima uscita pubblica della nuova coalizione a sostegno del ballottaggio del candidato sindaco Francesco Italia. Un incontro spontaneo, visto i cittadini residenti, amici e simpatizzanti numerosi, ha raccolto per dialogare del nuovo programma scattuito dalla sintesi dell'apparentamento della coalizione identità siracusana con Edi Bandiera Sindaco e quella del sindaco uscente Francesco Italia. È stata l'occasione per avviare in questi sette giorni una forte coalizione per sostenere Francesco Italia Sindaco. Al suo fianco l'ex assessore regionale Edi Bandiera, reduce di un acclaranto successo elettorale, nonché gli assessori designati della nuova giunta. Ringrazio sentitamente tutti gli amici a dichiarato Edi Bandiera, mi rendo conto che c'è una certa attesa, penso e spero di non deludere nessuno contro un centro-destra che vuole vendere pezzi della città verso l'esterno. L'intervento di Francesco Italia, voglio esordire con quello che porto nel cuore da tanti anni. Ho avuto la fortuna di rappresentare questa città nel momento più alto di sua umanità, ho lavorato sempre tanto e lavoro prima di tutto per me una passione al servizio della mia città. L'ispirazione di fondo è di richiamarmi a quella città a misura d'uomo e della sostenibilità ambientale. Abbiamo progettato tanto per le scuole, asfaltato strade dimenticate da decenni, arriveremo a molte altre, così come per il turismo. Se noi siamo stati capaci di fare questo, perché oggi non dovremmo essere in grado di lanciare un nuovo guanto di sfida verso il futuro? Com'è possibile pensare che questa città non riesca a risollevarsi e andare oltre a tutto quello che negli ultimi decenni è successo? Noi lo faremo assieme a tutte le forze della coalizione, cercando di sintetizzare alcuni fondamentali problemi, conclude Italia. Pubblico entusiasta che numerose volte ha interrotto l'incontro approfondendo tanti screscianti applausi, trattati con forte interesse e infine le tematiche delle due frazioni e delle periferie per le quali sono previsti interventi.